ciao a tutti amici ciao a tutti benvenuti a questo nuovo video faccio questo video sul robocop rog city perché provo a platinare il gioco o comunque provo ad ottenere due trofei che sono relativi all'ottenere 200 punti e 250 punti al poligono di tiro sono due i trofei appunto uno superamento di 200 e l'altro al superamento dei 250 resteranno anche altri trofei da ottenere pochi in realtà però però questo secondo me è uno dei più dei due trofei più ostici per poter platinare il gioco quindi ragazzi proviamo proviamo a vedere proviamo a vedere se riesco ad ottenere questi questi due trofei potrebbe volerci un po di tempo potrei fare dei tagli naturalmente perché non è detto che ci riesca al volo quindi ragazzi io provo a farlo così in diretta tanto per dire e proviamo stiamo a 48 ragazzi 200 sarà sarà complicatissimo di ottenerli 140 ragazzi 140 porca puttana na merda riproviamo dai forse dovrei provare a minare in testa probabilmente in testa becco di più sapete infatti mi sa che becco di più no cazzo ma porca allora uno l'ho fatto questo tizio è proprio bravo sono riuscito ad ottenere il primo di due trofei ragazzi porca puttana ci stavo per riuscire ci stavo per riuscire mi si è mi si è irrigidito il dito non vorrei non vorrei fare allusioni strane ma è quello che mi è successo ragazzi c'ero vicino quindi colpire alla testa effettivamente significa ottenere più punti probabilmente riproviamo ragazzi riproviamo riuscire Mamma che merda ragazzi Non ci credo Ma no aspetta aspetta L'ho fatto l'ho fatto l'ho fatto Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta E andiamo porca puttana Porca puttana ce l'ho fatta ragazzi Ce l'ho fatta dai Non pensavo di riuscirci Non dico che ce ne sono riuscito facilmente Però devo anche dire ragazzi Che mi sono reso conto che Da quando iniziai a giocare Ho migliorato sensibilmente la mia pistola Quindi ora la pistola Fa molto più danno Probabilmente ha una rosa un po' più ampia nei colpi Con tutti quegli upgrade che ho fatto E quindi ragazzi devo dire che Forse anche grazie A quando ho fatto insomma Questo poligono Cioè il momento proprio Storico in cui l'ho fatto Il momento del gioco in cui avevo La pistola probabilmente molto più potenziata E quindi che riusciva a beccare Molto meglio I bersagli Sicuramente beccare i bersagli In testa Da sicuramente più punti Ragazzi grazie che mi avete seguito In questo piccolo mini video Spero vi sia piaciuto E spero di riuscire a platinare Robocop Ne sarei molto orgoglioso Ciao a tutti Grazie Grazie Un abbraccio